Allora ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video su mini world Oggi non continueremo la nostra survival perché sono andato in galleria ovvero dove ce l'ha raccolta tutte le varie mappe che fanno gli utenti E ho trovato delle mappette veramente spicy come ad esempio c'è questo circuito che ha ben 84.000 download Ed è Marshmallow Alone quindi sarebbe tipo la canzone di Marshmallow su mini world Quindi una cosa veramente figa proviamola subito accedi Ok allora welcome Marshmallow allora che figate questi blocchi con le lettere così Oddio raga di macello oddio chissà qua come saranno appunto tipo i note bloc non so se sono note bloc o altro però va bene Ok regole ok abbiamo le regole ah ok allora è una cosa fatta pure in indonesiano quindi va bene noi leggiamo quelli in inglese Vabbè questo qui è il creatore allora vabbè hacking disarchivo vabbè non ci interessa To play music headphone pc vabbè draw distance a 3 Noi quanto ce l'abbiamo? Ok l'abbiamo messa ce l'abbiamo a 4 quindi penso che vada bene Ok dobbiamo aumentare anche il suono degli effetti sonori perfetto Le aumentiamo un pochettino Quando la musica inizia segui le lampade luminose per un'esperienza migliore Le luci si muovono velocemente quindi usa l'oggetto dentro la scatola Quindi dentro penso la cesta per seguire le luci E la scatola quindi il box è qui accanto alla porta Ah ok oddio come fanno a fare ste cose? No raga ma cioè tu puoi crearti tipo dei blocchi così Tiro di gancio ok E' tipo un rampino Spettacolo Ok qua invece abbiamo un del polletto Che andiamo subito a mangiare Questo dobbiamo avere speed esatto per 10 minuti raga A posto Bene a questo punto siamo ready Dovrei premere il bottone Oh E' finissimo Raga penso che molti di voi conosceranno questa canzone Raga ma sti note blocchi sono fantastici Guardate No raga è spettacolare Ottimo quanto sta correndo Ma ci ha un sacco di effetti sottofondo E' spettacolare No raga io la voglio sentire tutta Ma chissà quante altre canzoni hanno fatto su mini world così Guardate che bello Guardate come sono collegati Oh Oddio quanto sta correndo Raga Sono bellissimi i note blocchi Oh Ok E' spettacolare raga Voglio altre canzoni su mini world E' bellissimo Cioè è troppo bello Cioè è troppo bello Guardate come sono collegati Hanno tipo Questa specie di collegamento Che è fighissimo no raga E' bellissimo Non c'è nient'altro da dire Sono fatti veramente bene Non si può negare qua ragazzi Non si può assolutamente Negare Bene ragazzi A questo punto Direi che possiamo andare a provare invece Un'altra mappa Magmarunner Ok Che devo fare Oh cacchio Oh 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 Non ho capito Ahia Ahia Sì vabbè Ma Eh Ma Cambiamo mappa C'è raga Le ho sistemate adesso Per ordine E per tipologia Ho messo circuito Dove praticamente Ci sono tutte quelle particolari Come ad esempio Un pianoforte O addirittura Altre canzoni E' quasi quasi Prado of you Non so che canzoni sia Sentiamola Vediamo un pochettino Se ci sta o meno Ok Che cacchio devo fare Penso che parta per di qua C'è un bottone Oddio Qual è No Raga questa qui La facevo con il flauto Alle medie Raga la facevo Con il flauto Alle medie Allora Chi di voi Conosce questa canzone Ok Ok Però già mi ha rotto le scatole Ok Perfetto Ce n'è un'altra Happy New Year La scarico A 2000 Download Quindi Non è detto Che sia qualcosa di Tanto bello Ma ok Che cacchio C'è un maiale Qua dentro Ma perché Excuse me Vabbè Ok Penso che Start Per di qua Ma siamo per in creativa A posto 3D1 Vabbè 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 Perfetto Che cos'è ragazzi Great Transform 389.000 Download Cosa Eh Che 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 Ho paura La devo tirare La tiro Oh Ragazzi Ma che cacchio Si è mezzo rotto Mi sa No Si è tipo Mezzo trasformato Cioè Si è chiuso Più piccolino E mo E basta Tutto questo Però che figata Ragazzi I blocchi Che si possono muovere Questo che cos'è Non so che cacchio Sia sta Oh c'è una leva Ma Oh Che succede Lol Eh Va bene Ok No Adesso Viene a provare Quello là Ma quindi Un momento Se adesso ritiro Questa leva Praticamente Si va A A riaprire Oddio Guardate Perché questo È più monca Cioè Più Più lento Guardate No voglio provare Questo qui ragazzi Che è sto coso Oddio Oddio Oh mio dio Ragazzi Ma che cacchio È fighissimo E ci credo Che c'è tutti Sti download Ma è troppo bello Comunque Cioè E quindi Cioè Questi cosi qua Si muovono pure Cioè Fatemi capire Se io adesso Tiro La leva Oddio È bellissimo Ragazzi Ma È spettacolare Ste cose Bene Oggi ragazzi Vi ho visto Un bel poco Di mappette Su mini world Alcune sono Veramente Molto carine Domani Penso uscirà Un altro video Su mini world Sempre più o meno Verso questo orario E detto questo Ragazzi Fatemi sapere Qua sotto Nei commenti Quanto vi è piaciuto Da 1 A 500 Mila La mappa Di marshmallow Perché a me è piaciuto Veramente Un casino E detto questo Ragazzi Vi saluto Ciao a tutti